Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Anivalli Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, il settimanale di Fano TV, dedicato ovviamente allo sport del territorio. Non si è mai nascosta la Smart System, sin dall'estate scorsa ha indicato quello che era l'obiettivo stagionale, la promozionina 2. Ma adesso la promozionina 2 è estremamente vicina, dopo che la squadra Virtusina si è sbarazzata in semifinale di Belluno e si prepara ad affrontare, nella finale che varrà il salto di categoria, Sandonà. Tratteremo tutti i diversi argomenti che si prestano con il direttore sportivo della squadra fanese, Mattia Brunetti. Buonasera e bentornato. Buonasera, grazie. E con Federico Roberti, schiacciatore della formazione Virtusina. Buonasera e bentornato anche a lui. Buonasera. Partiamo da quello che è successo domenica, gara 3 con Belluno. Si veniva da una gara 2 decisamente deludente, forse una delle peggiori esibizioni della Smart System, almeno nell'ultimo periodo erano un po' riaffiorati i fantasmi delle trasferte di questa stagione. Ma il Palace I End evidentemente ha un effetto straordinariamente benefico su questa squadra perché la Smart System ha ritrovato i suoi pezzi forti, ha ritrovato il suo gioco e ha avuto la meglio su una squadra che era alla portata ma che aveva dimostrato che messa nella condizione di nuocere l'avrebbe fatto, Mattia. Sì, abbiamo fatto una prestazione importante di fronte a una squadra che ha giocato un ottimo palavolo e ci ha messo veramente in difficoltà. Poi sappiamo che noi al Palazzetto di Fano riusciamo a esprimere una palavolo a tratti di un livello veramente importante, soprattutto partendo dal servizio e di conseguenza sulla correlazione muro-difesa. Quindi sapevamo quello che valevamo, ci siamo subito detti che quello che era successo a Belluno era una piccola parentesi in un percorso che in tre mesi abbiamo, nella quale la squadra è crescita tantissimo. Quindi ecco, anche la prestazione di domenica ci dà grande fiducia su quello che saranno le prossime partite, la prossima serie con Sandona. Possono scorrere le immagini di questa gara tre, intanto Federico chiede dopo la prova decisamente negativa di Belluno si è insegnuato nella vostra testa qualche dubbio? Sicuramente sì, perché sapevamo che Belluno era una compagine di assoluto livello partendo dal palleggiatore, passando anche per Bisi che era un opposto di grandissima esperienza. Però sapevamo anche che dentro il nostro palazzetto si sarebbero fatti sentire i nostri tifosi e sicuramente avremmo giocato una pallavolo migliore rispetto a quella proposta a Belluno. E poi non è così atipico nei play-off che si giochi una splendida gara come nella sfida inaugurale con Belluno la domenica precedente e poi si incappi magari in una serata storta per poi rilanciarsi. Sì, sì, succede anche a livello più alto. L'abbiamo visto anche nelle serie Scudetto, ma anche la stessa Perugia che poi ha terminato con la vittoria dello Scudetto in trasferta si fa fatica. Le squadre che arrivano in fondo al campionato solitamente sono tutte squadre ampiamente attrezzate che in casa cercano di imporre sempre il proprio gioco. Quindi è una cosa che può succedere, qualcosa che è preventivato già quando si affrontano queste gare. Certo è che poi si deve subito ritrovare il bando della matassa e cancellare subito quelle che sono state le insicurezze della partita fuori casa in questo caso. Il fattore campo quindi non è un modo di dire, ma davvero al Palace Allende è un'altra Virtus, è sempre stata un'altra Virtus in questi due anni. Cosa c'è di speciale Federico? Sicuramente va fatto un ringraziamento speciale ai tifosi che ci danno la carica e ci spingono sempre anche oltre i nostri libiti. Abbiamo visto anche l'anno scorso comunque, come quest'anno, dove abbiamo perso solamente una partita che il fattore campo per noi è fondamentale, ma sicuramente dobbiamo anche migliorare nel fattore fuori casa. Ma ovviamente la nostra marcia in più è il caldo tifo fanese. È emersa, credo, in gara 3 anche una solidità mentale che nei play-off è fondamentale. Sì, sì, sì. Non nego che quel secondo set un po' a me personalmente ha messo qualche preoccupazione. Anche se forse lì il grande merito è stato di buttarsi via come invece era accaduto a Belluno. Esattamente, Andrea. Cioè il fatto che poi invece dopo il break iniziale siamo rimasti in partita, siamo rimasti attaccati comunque sia al cambio palla. Insomma ci ha dato la temperatura, cioè quanto la squadra serie in quel momento dentro al match, dentro la serie. E poi ecco si è visto poi il proseguio della partita come è andato, dove i ragazzi hanno messo veramente grandissima pressione per tutto l'arco della gara a Belluno. Ecco, diciamo che l'unica sbavatura è stata quella partenza di secondo set che poi ha pregiudicato quel parziale. Però è anche vero che poi durante lo stesso set i ragazzi sono stati sempre attaccati alla partita anche a livello agonistico. Insomma, non hanno mai abbassato, come dire, le orecchie, tra virgolette. Vediamo anche la clip che viene realizzata abitualmente dal nostro Giacomo Vitali in occasione delle gare interne. in quel secondo set in cui avete dovuto rincorrere mi pare abbia funzionato quel cambio palla che in qualche circostanza di questo campionato non vi ha supportato. Quello sì, sicuramente. Anche come diceva Mattia, il nostro è stato sicuramente un punto forte quello di non aver mollato come è successo a Belluno dove il secondo e il quarto set sono praticamente andati via giocando quasi di inerzia loro e noi un po' sottotono. e sicuramente il cambio palla ha fatto sì che restassimo ben incollati alla partita e pronti fisicamente e mentalmente per il terzo set e poi il quarto che ha chiuso la serie con Belluno. Più che mai la battuta marchio di fabbrica, più ancora del muro perché Belluno alla fine ne ha centrati praticamente lo stesso numero. Una battuta che è stata molto efficace soprattutto con Roberti e con Merlo e che manda sistematicamente in crisi le squadre avversarie che per un po' reggono ma poi alla fine mostrano la corda. Assolutamente sì, abbiamo una serie di battitori in salto che mettono tantissima pressione, ti danno la possibilità di andare anche sotto qualche volta durante il set ma ecco il livello della battuta ci permette di ricucire come dire eventuali gap che si generano durante il set. Merito assolutamente ai ragazzi del lavoro, della tranquillità, la serenità che si dà sulla libertà del servizio soprattutto ai battitori in salto in questo caso Federico, Merlo e Dimitro. Comunque anche quella flotte di Partegno piuttosto che di Galdenzi è fastidiosa. Assolutamente sì, Pierpaolo è cresciuto tanto sulle ultime gare sapevamo che aveva nelle sue corde un servizio jamflot molto insidioso e Pietro ha sempre avuto Galdenzi ha avuto sempre questo servizio teso che mette in difficoltà la ricezione avversaria. Un po' atipico per un centrale però ecco è un grosso merito che ha questo ragazzo, una grossa dote. In sfida di questa tensione ci sono poi dei momenti particolari. Uno l'ha autografato Roberti in quel quarto set in cui come vedremo in sequenza ha azzeccato tre muri e un attacco quattro punti consecutivi. Non so cosa hai pensato in quel momento lì perché tre muri di fila due sul centrale non è che capitano tutti i giorni tutte le partite. Quello sì, sicuramente e bisogna anche ringraziare possiamo vedere questa sequenza. Ringraziare il coach che ci fa studiare le partite in maniera quasi impeccabile e questo sicuramente ci ha aiutato a spartirci bene i nostri compiti. E in effetti c'è una dinamica nelle gare in particolare in casa della Smart System con la battuta si fa breccia nelle ricezioni avversarie poi a muro questa squadra sa spendere bene i suoi centimetri. Sì, siamo una squadra fisicata abbiamo tanti centimetri c'è tanto studio durante la settimana non dimentichiamoci che il Ruscio Michael ma anche Vincenzo preparano la partita in maniera molto analitica quindi questo aiuta tantissimo. Poi il resto lo fanno i ragazzi che seguono ovviamente i dettami tattici e poi comunque sia sono dotati comunque sia di buoni centimetri e qualcuno anche di ottima tecnica. Abbiamo visto appunto la serie fantastica di Roberti ma incombe questa sfida che varrà la 2 con Sandonà forse non l'avversario che ci si immaginava ma a questo riguardo anche Belluno non era pronosticata contro Palmi i play-off stanno regalando sorprese ma sicuramente la sorpresa più grande è questo Sandonà che è formazione costruita per salvarsi che ha fatto un buon girone d'andata oltre le aspettative che nel girone di ritorno sembrava essersi un po' persa tre sconfitte nelle ultime quattro giornate quattro nelle ultime sei cinque in tutto il girone di ritorno e sono state complessivamente set poi nei play-off di incanto si è ritrovata soltanto vittoria Mattia. Sì sorprese ne succedono tutti gli anni l'anno scorso ci ricordiamo di Casarano arrivato in finale ha fatto una serie di play-off non preventivabili all'inizio era ecco la cenerentola che si presentava in finale Sandonà ha fatto una regular season importante ricordiamoci che è arrivata seconda poi per differenza set ha concluso al terzo posto è stata tutta la stagione sempre al secondo posto tranne l'ultima giornata quindi magari ecco all'inizio non era così pronosticabile il risultato di regular season però durante la stagione hanno dimostrato di essere un gruppo forte di avere una diagonale importante per questa categoria Tulone e Giannotti e dei giovani emergenti che hanno fatto veramente cose importanti il centrale Guastamacchia piuttosto che la banda Favaro l'anno scorso non giocavano erano dei ragazzi che facevano da comparse in Serie A3 o in A2 nel caso di Favaro e poi quest'anno sono esplosi quindi ecco diciamo che sì non era preventivabile all'inizio della stagione guardando i vari roster però durante la stagione hanno fatto qualcosa di importante e adesso hanno avuto il grandissimo merito di buttare fuori squadre come Lago Negro e in finale e in semifinale è proprio Mantua che ha disputato la finale diretta per andare in A2 Mantua che probabilmente ha pagato quei due match point promozione non trasformati contro Macerata uno in particolare i playoff appunto regalano sorprese ci si augura che non ci sia una sorpresa nell'ultimo atto avete cominciato già a mettere a fuoco questo Sandonà e le sue caratteristiche certo certo e cominceremo sicuramente anche a studiarli meglio a guardarli meglio e capire come dare fastidio a questa squadra che sta facendo una cavalcata durante i playoff favolosa e anche abbastanza larghe tra parentesi avete già giocato in passato a Sandonà e quello non è un impianto confortevolissimo se c'è un effetto Palace A Yende probabilmente ci sarà un impatto anche del palazzetto in cui gioca la squadra veneta sì il palazzetto di Sandonà è sicuramente un palazzetto un po' più piccolo rispetto a quello di Fano i punti di riferimento sono diversi e sappiamo come ogni anno che la formazione di casa è ben rodata dentro il proprio palazzetto possiamo vedere anche qualche immagine proprio della vittoria in gara 2 di Sandonà su Mantua in un quarto set interminabile in cui probabilmente a Mantua è stato tolto anche qualcosa erano stati esauriti i cecchie su uno scambio controverso non è stato possibile appunto andare al controllo video una sfida che evidentemente Sandonà affrontato con il morale a mille quello che non poteva avere Mantua sì Mantua arrivava appunto dalla da una gara 2 con sopra è una parabola quella di Mantua che somiglia a quella della Virtus dell'anno scorso esattamente non volevo fare questo paragone però effettivamente diciamo che è abbastanza simile se non del tutto uguale o speculare hanno perso poi ecco le finali di Supercoppa cioè hanno fatto un percorso molto simile al nostro dell'anno scorso Mantua arrivava ecco dopo aver avuto due palle promozione perché era sopra 1 a 0 nella serie 2 a 0 a macerata 24 a 22 e poi ha perso 3 a 2 3 a 0 in casa quindi queste cose ti segnano sono cose che insomma abbastanza impattanti a livello mentale Sandonà invece arrivava sulle ali dell'entusiasmo su una stagione che ecco quando giochi con questo tipo di entusiasmo qui è veramente difficile da contrastare perché non hanno nulla da perdere perché quello che dovevano fare l'hanno fatto hanno già ampiamente dimostrato tutti quello che valgono e ci sono grandi aspettative sulla prossima stagione su questi giocatori quindi giocano effettivamente nel vero senso della parola sull'ali dell'entusiasmo stanno giocando avete affrontato questi playoff convivendo con il peso del pronostico perché in tutte le sfide partivate da favoriti l'avete sentito questo peso e l'avete gestito nel migliore dei modi sicuramente un po' l'abbiamo sentito perché anche si può leggere ormai sui siti social oppure anche sui giornali che ci danno spesso per favoriti però è una cosa a cui noi non pensiamo costantemente anche perché può anche come dire far prendere sotto gamba le partite e gli avversari che ovviamente non sono da sottovalutare sicuramente non verrà preso sotto gamba il Sandonà vediamo quale sarà la sequenza delle sfide da questa schermata si comincia domenica prossima al Palace Allende con orario le 19 poi la gara 2 in programma il sabato successivo il 18 maggio a Sandonà l'eventuale gara 3 il 22 maggio di nuovo al Palace Allende chiaramente si confida come sempre in un apporto del pubblico massiccio ma credo che a questo punto ci siano pochi dubbi al riguardo sì partita non so se è verità oggi la prevendita però già mi diceva prima con Marco con Mantile che poi segue in maniera più approfondita di me questi dati partita già fortissimo siamo già 80 biglietti venduti nelle prime ore quindi sicuramente il palazzetto sarà infuocato domenica già domenica finita la partita chiedevano subito quando avremmo messo in vendita i biglietti e sì la differenza la può fare effettivamente il pubblico fanese perché poi riparlando con direttori sportivi piuttosto che allenatori che appena terminate le gare in casa si dicono comunque sia la pressione tantissima il pubblico si sente ed effettivamente esiste un effetto palazzetto allende anche sull'avversario anche perché si tratta comunque di giocatori di A3 in molti casi si tratta di giovani e quindi non c'è tutta questa abitudine a convivere con certe atmosfere assolutamente no ne parlavamo prima Sandonà ha tanti esordienti adesso magari Giannotti un pochino più abituato a questi palcoscenici però ecco la maggior parte dei ragazzi ancora sono alle prime armi non hanno affrontato partite prima di tutto con questo carico di emozioni parliamo e soprattutto in ambienti così caldi e così presenti è veramente difficile venire a giocare al palazzalende mi metto nei panni dell'avversario effettivamente c'è tanta tanta pressione in alcuni campi del sud diciamo noi ci siamo andati e qualcosa di simile succede per concludere il discorso sul palazzalende e facendo tutti gli scongiuri del caso in prospettiva A2 si riproporrebbe il problema dell'ineadeguatezza dell'impianto fanese qual è lo stato dell'arte quali sono le normative che al momento sono in vigore qualora appunto come tutti ci auguriamo la smart system sbarcasse in A2 che situazione si troverebbe a gestire allora il primo anno il palazzetto non è a norma per quanto riguarda le omologhe per la A2 c'è un problema di capienza attualmente il palazzetto è omologato per 704 posti a sedere mentre la Lega ne richiede mille siamo già all'opera in questo caso il gestore CSI di Fano è già all'opera per verificare prima di tutto la sicurezza dell'impianto quindi se ci sono i criteri per richiedere un aumento di capienza poi ovviamente vanno trovati si dovranno fare dei lavori per trovare poi questi famosi posti a sedere perché parliamo di 300 posti e non una cosa così immediata insomma il limite comunque è mille non c'è possibilità di deroga solo il primo anno c'è un anno di deroga però ecco la volontà della società è quella di stabilizzarsi in a due quindi comunque sia qualcosa dovremo fare a Fano evitiamo ovviamente di affrontare anche in questo caso il discorso di un nuovo palazzetto perché rischieremo di essere quantomeno noiosi grazie a Federico Roberti schiacciatore della Smart System Fano grazie al direttore sportivo della società fanese Mattia Brunetti noi torniamo fra qualche attimo atmosfera strana quella che si è respirata domenica scorsa al Mancini era in programma l'ultima di campionato per l'Alma Juventus Fano che ha fatto il suo dovere battendo largamente il Real Monterotondo come vediamo dalla immagine un 5 a 2 che ha fotografato una classica partita di fine stagione che opponeva una squadra già salva come il Real Monterotondo ad un'altra retrocessa ma che si poneva l'obiettivo di conservare quantomeno il terzo ultimo posto in classifica che darebbe delle chance in ottica ripescaggio quell'ottica che andrà però avvalorata con atti concreti da parte della società chiamata appunto ad assumerli di qui alle prossime settimane una partita dunque ricca di gol che è coincisa con il saluto del pubblico alla squadra Granata pubblico che ha dimostrato comunque al di là dell'esito finale amarissimo di apprezzare lo sforzo che la squadra ha profuso nel corso di una stagione estremamente tribolata in cui di complicazioni ne sono state affrontate e superate tantissime se non per l'esito finale che è stato appunto quello della retrocessione che la formazione Granata non è riuscita ad evitare proprio al termine della partita c'è stato l'attacco piuttosto pesante che a nome della squadra e dello staff tecnico il capitano Urbinati ha sferrato vediamo l'immagine appunto dei giocatori e dei membri dello staff tecnico raccolti per testimoniare all'unisono la propria delusione per il risultato finale formulando anche le scuse ai propri tifosi ma anche per testimoniare tutte le difficoltà che hanno caratterizzato questa stagione fuori dal campo è stato un campionato imbarazzante ha detto Urbinati che ha difeso con orgoglio la dignità e rispetto alla dedizione che la squadra ha mostrato a dispetto appunto delle tante inadeguatezze che si sono invece susseguite fuori dal campo sin da quel 25 luglio amato ricordare Urbinati quando la squadra venne messa alla porta dall'hotel in cui stava svolgendo la preparazione un'annata lo ricordiamo ancora una volta caratterizzata da una costruzione in economia della squadra fino ad arrivare al disimpegno sotto le feste di Natale del presidente russo che ha dato mandato in pratica ai giocatori qualora lo avessero desiderato di liberarsi la cessione di Tenkoranga che ha privato la squadra di un apporto fondamentale di linea avanti anche sotto la gestione guida una serie di situazioni che evidentemente non hanno portato tranquillità allo spogliatoio una squadra che ha pagato poi inevitabilmente una volta alle prese anche con una classifica sempre più pericolosa le proprie carenze dal punto di vista tecnico andiamo a ripassare anche i risultati di quest'ultima giornata che ha portato anche agli ultimi verdetti che sono appunto desumibili dalla classifica che andiamo velocemente a scorrere con l'Alma Juventus Fano che ha conservato appunto il terzo ultimo posto ma non disputerà i play-out perché le lunghezze di ritardo dal Real Monterotondo sono nove play-out che come vediamo dalla schermata saranno circoscritti alla sfida fra Tivoli e United Riccione questi sono invece i verdetti per quello che riguarda la lotta al vertice promossa in Serie C il Campobasso play-off tra L'Aquila Roma City Avezzano e San Benedettese mentre appunto sul fronte dei play-out la sfida fra Tivoli e United Riccione mentre sono e direttamente in eccellenza oltre all'alma di Ventus Fano anche Vasto Girardi e Matese 20 anni e non dimostrarli oppure dimostrarli tutti nel senso che la Colle Marathon tagliando questo traguardo del ventennale ha ancora una volta riaffermato la bontà dell'organizzazione e soprattutto la validità dello spirito che muove l'organizzazione 20 anni dopo quella prima volta della Colle Marathon dopo il successo di questa edizione 2024 torniamo a parlare con il presidente Annibale Montanari buonasera bentornato buonasera a tutti e con Marco Savelli del comitato organizzatore ma quest'anno sul percorso felicemente nel percorso buonasera e bentornato anche a lui Annibale è andato tutto bene e non è un modo di dire sì veramente siamo molto soddisfatti perché con un percorso così diciamo non all'altezza delle altre maratone con quelle piane da noi chiaramente c'è qualcosa da dare di più muscolarmente però sono stati due giorni bellissimi che ci hanno aiutato anche il tempo perché la bella giornata ha favorito anche siamo partiti da barchi che erano 15 gradi poi chiaramente arrivando a Fano qualcosa ha aumentato ecco a proposito dell'aspetto tecnico ok percorso sinuoso impegnativo l'abbiamo sempre detto però domenica c'è stata una complicazione in più freschetto alla partenza e però all'arrivo a Fano temperatura quasi estiva è stata molto sofferta dai concorrenti già nel pullman alla partenza questa bellissima organizzazione quindi siamo fieri di avere questo doppio ruolo quest'anno da componente del comitato e da trita da detta partecipante si parlava con gli altri iscritti stavolta farà caldo ed è stato veramente caldo ma tuttavia il caldo è stato non tanto quello del sole ma quello del coinvolgimento emotivo che hanno portato tutte le persone lungo il percorso le immagini di questa festa di sport e non solo di domenica parliamo sempre di colle maraton in realtà ormai abbiamo diverse colle maraton perché abbiamo la maratona classica quella da cui tutto è nato poi abbiamo la mezza maratona che partiva anche quest'anno da mondolfo abbiamo avuto la 10 chilometri in partenza da tombaccia abbiamo avuto la camminata o la rimba che in qualche modo incarna con forza il messaggio di solidarietà e di vicinanza ai più deboli e ai più in difficoltà che la colle maraton veicola e quest'anno in più in aggiunta proprio sul fronte dell'attenzione verso la disabilità anche una camminata da piazza 20 settembre fino all'arrivo partiamo proprio da quest'ultimo aspetto a livello si è stato un bel ritrovo questa è stata un'iniziativa del nostro sponsor Lorenzo Campanelli che ha voluto soprattutto il significato della maratona dei valori è partita da là a 400 metri sono partiti c'era il prefetto vescovo tutta una serie di personaggi importanti circa una quarantina di disabili e sono arrivati lì all'arco d'augusto che hanno avuto un ristoro straordinario per tutti loro grazie ecco l'ho offerto soprattutto Lorenzo Campanelli e da lì è nata un'iniziativa collaterale importante perché rappresenta ecco i valori che noi portiamo avanti da 20 anni e poi la 10 chilometri da Tombaccia a beneficio di coloro che non hanno tutta questa preparazione alle spalle si organizzare l'acqua alla Marto sicuramente non è facile come hai ben detto tre partenze un arrivo a livello logistico è veramente complicato e quindi vuol dire che ci vuole un supporto da parte di tante associazioni e l'associazione della Del Fiume ha organizzato in modo strepitoso questa prima edizione della 10 chilometri con la partenza da Tombaccia e sempre con l'arrivo presso l'arco d'agosto quindi di nuovo 100 persone sono partite si sono messe in gioco e hanno espresso al meglio le loro capacità ma voglio appunto approfittare di questi numeri per raccontare tutti i numeri della Colle Marton se mi permetti ci sono stati in tutti i quattro macroeventi 2200 partecipanti perché anche la passeggiata o la rimba per la raccolta i promotori sottolineavano come nel 2018 fossero in 12 quest'anno quasi 600 mi pare quasi 600 partecipanti alla passeggiata o la rimba per la raccolta fondi di Aile per il Mieloma è da brividi vedere appunto in queste immagini tantissime maglie rosse che non sono nemmeno bastate perché sono talmente tanti a riconoscere quanto appunto il camminare fa bene e questo è uno slogan che portiamo sempre avanti con Annibale proprio per dire che lo sport fa bene ed è stata l'immagine perfetta di una comunità di un territorio che ha risposto in modo strepitoso quindi 2500 sono stati partecipanti dai bambini fino ad arrivare agli adulti c'è nella camminata e c'è un esempio in famiglia nonni con i nipoti quindi ho avuto mamma che ha partecipato con una figlia ed è questo questo appropito sono i valori della Colle Marathon non soltanto l'agonismo dove ci sono stati 1300 iscritti tra tutti i tre eventi importanti quindi la maratona la mezza maratona le 10 chilometri ma tutto tutta la passeggiata la corsa per i bambini con 300 bambini è appunto il campionato italiano paro olimpico una grandissima percentuale di donne il 24% di donne agoniste quindi una notevole presenza presenza internazionale 21 paesi 21 paesi 4 continenti abbiamo messo anche in mezzo anche atlete dall'Iran e degli Stati Uniti quindi ancora un messaggio ancora più una valenza anche politica anche politica di pace ma tanto poi turismo turismo sportivo perché la maggior parte sono venuti dalla Germania dal Belgio dalla Francia dalla Svizzera e questo sempre vale anche qui un rapporto ogni atleta porta almeno un parente vuol dire che nella zona dell'arco d'agosto del Pincio del centro di Fano di tutti i paesi intorno sono transitate almeno 5.000 persone perché 2.300 iscritti vuol dire che portano un'altra persona quindi abbiamo riempito veramente tutte le nostre comunità dalla partenza di Barchi passando per tutti i borghi con la conseguente promozione del territorio che è una delle finalità storiche della Colle Marathon risalendo in termini di distanze la mezza maratona e quest'anno la mezza maratona aveva una prerogativa particolare assegnava il titolo italiano paralimpico tra l'altro a dominare è stato un atleta paralimpico Simone grazie a Dio abbiamo fatto anche questa ventesima con il campionato italiano paralimpico quest'anno grazie all'adesione di queste federazioni che sono state con noi ci hanno riconosciuto i valori che portiamo avanti quindi da Mondolfo è stato un successo sono partite più di mille persone una piazzetta tutta piena e da lì sul percorso colorato con la rimba c'è stata anche una lotta per arrivare primi tra uomo e donna quindi c'è stata veramente un significato importante di spettacolo e soprattutto di amicizia perché quello che noi ci teniamo a dire è ognuno di noi si deve guadagnare sia la pace che la libertà bisogna mettersi in gioco però per dare un significato a tutto questo e quindi ne abbiamo avuto tanti quest'anno ringraziamo quanti veramente hanno camminato il corso con noi abbiamo movimentato circa 2500 persone tra il sabato con i bambini e la domenica altra particolarità che stavamo trascurando l'evento del sabato avete fatto correre su distanze ovviamente contenute i bambini e le bambine e hanno risposto in tanti sì grazie CSI che ha fatto un lavoro oltre 300 bambini il sabato sera è questo che ci gratifica perché noi dobbiamo trasmettere le emozioni e farli sognare i ragazzi però lo sport le emozioni dello sport non possiamo farne meno e quindi i ragazzi dobbiamo portarli con noi a fare movimento e ognuno faccia la sua disciplina però essere presenti 300 ragazzi a Fano il sabato sera veramente CSI ha fatto un grande lavoro evento trasversale se ce n'è uno la Colle Marathon ma quale gratificazione quale grado di gratificazione comporta sentire magari il vincitore Carmine Buciglia la sua prima Colle Marathon dire organizzazione perfetta ma me l'aspettavo così perché me l'avevano raccontata così beh questo non può essere non soltanto il merito del comitato Colle Marathon ma il merito è di tutto il territorio di tutte le associazioni delle proloco di tutte quante sono i paesini le città coinvolte vuol dire che il volontariato come sempre è l'arma vincente quindi poter coinvolgere tante associazioni tante persone è sicuramente lo strumento adatto per far sì che un evento in questo caso un evento sportivo lo dimostrano le immagini sia lo strumento adatto appunto per far sì che una manifestazione così importante cresca sempre di livello altro aspetto caratterizzante della Colle Marathon è il legame affettivo che si crea tra questo evento e i suoi partecipanti riaffermato dalla vincitrice in ambito femminile Maria Vraic che ha detto sono felice per aver vinto questa edizione il ventennale perché questa è stata la mia prima maratona italiana e sono molto grata alla Colle Marathon Annibale sì tra l'altro mi ha anche richiamato la Vraic è ritornata da noi si è veramente divertita perché a 48 anni rimettersi in gioco e poi ritornare a vincere da noi quindi è stato un bel successo questo dimostra anche l'entusiasmo che quando vengono da noi che si crea tutti insieme e lei ecco ha assorbito molto tutto questo e ci ha ringraziato veramente tanto perché dalla Croazia non è la prima volta che viene è venuta già altre volte quindi questo è uno dei tanti aspetti che veramente fa grande la nostra manifestazione dobbiamo tener conto oltre 300 volontari questa ecco è una manifestazione che veramente fa la differenza il grande fattore umano soprattutto abbiamo delle risorse straordinarie umane qua 300 volontari significa assegnare ad ognuno un ruolo mica facile beh il merito sicuramente è del presidente che riesce a individuare in ognuno di noi le potenzialità per far crescerla con le maraton e coordinarli è tutto merito suo questo vuol dire coinvolgimento vuol dire passione vuol dire emozione è della maratona dei valori della colle maraton è indubbio che senza i volontari non riusciremo in due giorni a far crescere la colle maraton e quest'anno l'abbiamo provato anche rispetto all'anno scorso tutti noi del comitato abbiamo passami il termine faticato di meno perché i volontari sono stati fantastici e ci hanno supportato in maniera egregia macchina evidentemente rodata ora però con l'ausilio di Marco chiederei ad Annibale di svelare un segreto perché è vero che ha fatto un po' caldo all'arrivo però anche domenica uno splendido sole qui c'è gatta cicova Annibale come fai ad avere il bel tempo tutte le volte da questo aspetto ringrazio il buon Dio che veramente in vent'anni nonostante prima e dopo ha piovuto ha lasciato due giorni straordinari per noi in effetti tante belle foto tanti bei filmati che gireranno che rilanciano l'immagine di questo territorio su tutti i diversi canali promuovendone appunto i valori in questo caso paesaggistici e di accoglienza con questi borghi straordinari che abbiamo stiamo dando una bella promozione al territorio veramente alberghi pieni e tutti contenti perché cerchiamo noi di lavorare soprattutto con l'accoglienza perché se trattiamo bene chi viene poi ne parla bene e ritorna quindi è stato ecco soprattutto l'investimento maggiore che abbiamo fatto sull'accoglienza questo passaparola virtuoso che è un po' uno dei comuni denominatori di questa colle maraton abbiamo detto dell'aspetto della solidarietà e a colpire è il sorriso di chi partecipa queste camminate all'arrivo gratificato dal fatto di aver concluso la fatica ma anche contento di aver fatto quel gesto a favore di queste persone Marco lo dimostrano come sempre i numeri la passeggiata o la rimba è un evento fantastico all'interno della colle maraton penso che ormai siamo diventati un unicum e quindi vanno ringraziati Tania e Terry per quanto stanno facendo per far crescere la colle maraton con la loro passeggiata e sono numeri fantastici perché tutti noi nemmeno loro pensavano che questa marea di partecipanti ha invaso veramente la partenza nessuno pensava a 1100 persone alla partenza di Mondofo quindi trattetti agonisti e passeggiata sono stati numeri fantastici e questo è possibile proprio non soltanto per lo scopo del benessere fisico ma per il benessere appunto della raccolta personale di cuore affettiva della raccolta fondi per il mieloma qualche volta in passato la colle maraton ha avuto problemi di convivenza con la gente perché chiaramente i concorrenti devono transitare lungo strade destinate normalmente al traffico veicolare da questo punto di vista il messaggio abbiate un po' di pazienza è passato Anibale? No grazie a Dio è stato veramente recepito perché sapevamo che qualche disagio si crea con una manifestazione di 42 km però ecco quest'anno c'è stata più attenzione ho parlato anche con i vigili anzi ringrazio tutte le forze dell'ordine che hanno fatto un servizio straordinario le proloco ma volevo ricordare soprattutto chi ci dà la benzina le risorse le eccellenze del territorio qui c'è un territorio che si è messo in gioco da 20 anni e grazie a loro riusciamo a coprire quel minimo indispensabile per realizzare il nostro sogno il nostro evento Anibale esibisce quello che è l'oggetto che caratterizza questa celebrazione del ventennale il libro che avete realizzato per riassumere con immagini soprattutto perché sono quelle che rendono poi alla fine l'idea a diare il racconto quello che avete fatto in questi quattro lustri beh qui c'è vent'anni di storia ci sono foto ci sono ricordi di tutti quelli che sono venuti da noi ma c'è soprattutto ecco anche gli sponsor che qui partecipano ma ecco abbiamo un comitato organizzatore abbiamo una cucina straordinaria che da barchi scendono donne e uomini e fanno un servizio ecco insieme alla proloco di Fano qui all'arrivo è una cosa eccezionale e la partenza sanno tutti che la partenza nostra è tra le più belle in Italia se non la migliore qui c'è Claudio Patrignani quello che è insieme a me partito ha fatto un lavoro ecco insieme al suo gruppo quindi ne abbiamo dobbiamo veramente ringraziare perché il nostro obiettivo rimane sempre di fare del bene soprattutto facciamo del bene aiutiamo chi sta peggio di noi e ancora continuiamo e crediamoci tutti insieme perché quello che si è creato insieme non è roba da poco sono vent'anni di grande lavoro tutto è girato per il verso giusto però ci si chiede quali possono essere gli obiettivi per il futuro bisogna sempre cercare di migliorarsi allora dove Marco si può ancora migliorare la Colle Marato beh sicuramente le partenze le tre partenze e un arrivo richiedono tante energie tante valore umano e quindi sui valori umani sono sempre gli aspetti su cui noi dobbiamo continuare ad investire soprattutto sull'offerta al Maratoneta che è sempre più esigente ma è normale che su queste esigenze le amministrazioni comunali come la regione ci stanno dando una mano questo sostegno non deve fermarsi deve continuare quindi questo dialogo con tutti i soggetti deve continuare a migliorare perché la Colle Maraton vive sicuramente di iscritti vive sicuramente di sponsor e ancora sempre più bisogno del sostegno di tutte quelle che sono le amministrazioni e da parte nostra non c'è altro che pensare subito alla 21esima edizione Annibale dice sempre che è stanco dice che la 20esima sarà stata la sua ultima da presidente ma noi del comitato non ci crediamo lo aspettiamo già dal prossimo sabato alla prossima riunione pensando alla 21esima edizione qualcuno ci ha detto ma chissà che non hanno organizzato anche il campionato europeo parolimpico e questa potrebbe anche essere e questo è lo scoop della serata il campionato europeo paralimpico Annibale questo è il sogno per il 2025? ma è un sogno ce l'hanno proposto noi abbiamo cercato di far bene quello nazionale adesso aspettiamo però già ci hanno detto ci hanno impegnato anche per il prossimo anno quello europeo vedremo poi quello è con gli sviluppi l'internazionalità non fa difetto alla Colle Maraton quindi partite avvantaggiate grazie ad Annibale Montanari presidente della Colle Maraton grazie a Marco Savelli del comitato organizzatore noi torniamo fra qualche istante grazie altra tappa stasera del nostro ideale viaggio fra le discipline di ispirazione orientale tocca stavolta al taekwondo di cui ci aiuteranno a capire la sostanza l'allenatore della M taekwondo Fano Fossombrone Pesaro Antonio Mascia buonasera e benvenuto buonasera e il suo collega Giulio Giustiniani buonasera e benvenuto anche a lui buonasera come sempre quando si tratta di discipline di nicchia con cui la gente ha una confidenza relativa chiederei innanzitutto a Giustiniani di spiegarci il taekwondo il taekwondo è un'arte marziale coreana non è poi così di nicchia perché è uno sport molto praticato anche qui in Italia è uno degli sport dopo il calcio dopo gli sport nazionali insomma uno dei più praticati e di che cosa parliamo? quali sono le caratteristiche di questo sport? è un'arte marziale di combattimento si utilizzano all'80% le gambe quindi calci calci in volo calci girati un'attività molto agonistica noi come palestra partecipiamo a numerosi tornei e competizioni sia nazionali che alcune internazionali ci sono parecchi praticanti e abbiamo anche degli ottimi elementi siamo soddisfatti quando nasce la M Taekwondo Masciat? nasce a Pesaro nel 1888 siamo presenti a Fano nel 1996 e attualmente abbiamo tre sedi una a Pesaro a Fano e Fossombrune quanti tesserati potete contare? all'incirca sui 70 tesserati di quali fasci di età parliamo? abbiamo fino principalmente noi abbiamo i nostri atleti hanno dai bambini dai 5-6 anni fino a 15-16 anni ecco ci si può dunque avvicinare Giustiniani anche ad un'età molto precoce a questo sport sì sì soprattutto con i nuovi regolamenti del CONI la federazione cerca di trovare giovani virgulti in tenera età per poi avere più tempo per prendere questi piccoli campioni e portarli più tempo possibile alle Olimpiadi per avere più spazio quindi sì noi iniziamo dai 5 anni se qualcuno è portato anche da qualcosa prima fino a qualche anno fa noi avevamo anche nella palestra di Fossombrone persone di 40-45 anni quindi non è una cosa di nicchia per i giovani chiaro l'agonismo è per i giovani ma poi la pratica senza andare a fare il combattimento quindi senza rischiare di farsi male è una pratica che possono fare praticamente tutti fino a qualsiasi età quali sono i requisiti fisici anche tecnici per primeggiare nel taekwondo i requisiti tecnici ci vuole tanta volontà perché è uno sport che richiede tanti sacrifici quindi una volta che abbiamo una persona che è disposta a fare questi sacrifici per se stessa poi le cose vengono sole poi chiaramente la resistenza l'elasticità la velocità ce ne sono tante cose che servono nella nostra disciplina però la cosa fondamentale è la volontà uno sport di combattimento comunque il taekwondo ma questo non significa uno sport violento Masha no anche se uno sport di combattimento a contatto pieno perché comunque noi utilizziamo le corazze il caschetto e ci sono delle regole per cui gli atleti che vogliono avvicinarsi a questo sport devono rispettare delle regole ecco cosa dicono queste regole come funziona un combattimento viene attribuito un ponteggio in base ai colpi sferrati allora al corpetto una tecnica di calcio sono due punti al viso al viso sono tre punti i calci in rotazione quelli diciamo quelle tecniche dove c'è una rotazione di tutto il corpo sono cinque punti per cui la somma diciamo di questi punti vince l'incontro attualmente il nuovo regolamento va a round cioè l'atleta gli atleti hanno a disposizione tre round per vincere tutto l'incontro devono vincere almeno almeno due round diciamo che nel round si accumulano punti l'atleta che accumula più punti e vince il round può succedere che un round lo vince l'atleta blu l'altro round l'atleta rosso il terzo round è quello decisivo sport di combattimento vuol dire che si sferrano dei colpi e allora c'è il rischio di farsi male che poi è la preoccupazione che molti genitori possono avere no primo perché abbiamo le protezioni gli atleti indossano il corpetto il caschetto parabraccia i guantini e poi comunque diciamo che le gare sono suddivise per fasce d'età e per grado per cui diciamo più uno diventa bravo e più sale di livello cioè è difficile trovare ecco faccio un esempio come i bambini sono suddivisi due anni due anni e per diciamo per grado per capacità stiamo parlando dei più piccoli ma ci si può avvicinare a questa disciplina anche in età per così dire adulta sì sì non c'è nessun problema noi abbiamo abbiamo avuto parecchi genitori che portando i bambini si fermavano lì a guardare e ci chiedevano possiamo partecipare anche noi quindi anche persone grandi 40-45 anni possono praticarlo è chiaro con un bambino è molto più semplice portarlo all'agonismo un genitore lo fa per muoversi per stare con il bimbo per stare in compagnia per avere una cosa insieme però non ci sono problemi anche persone grandi possono praticarlo dalla vostra esperienza cos'è che attira di più di questo sport la cosa che attira di più piace molto ai bambini ad esempio è l'esame l'esame quando passano la cintura è una cosa graditissima ai bimbi piccoli quando si cresce un pochino con l'età è chiaro che noi miriamo abbastanza il combattimento quindi le gare sono uno stimolo molto forte per i ragazzi abbiamo detto di un'attrezzatura piuttosto elaborata che occorre per fare questo sport questo comporta naturalmente anche dei costi vivi notevoli è uno dei problemi che vi trovate a gestire quotidianamente Masce sì perché comunque nelle gare diciamo che c'è il sistema elettronico cioè il il punto che che l'atleta mette a segno viene rilevato dal sistema elettronico è chiaro che in in palestra avendo avendo delle attrezzature sì uguali ci aiuterebbe ecco a migliorare un po' l'agonismo dei nostri ragazzi questo significa che magari ci sarebbe bisogno di qualche sponsor gli sponsor sarebbero molto graditi effettivamente ogni tanto abbiamo qualcuno che ci aiuta riusciamo a comprare attrezzature tutto quello che può servire essere utile per l'allenamento dei nostri ragazzi anche perché abbiamo tre sedi quindi abbiamo tre posti in cui ci sono tre attrezzature quindi i costi insomma salgono salgono però sì abbiamo qualcuno che ci aiuta ogni tanto fortunatamente tre sedi comportano uno sforzo organizzativo credo notevole dovete distribuire gli sforzi però allo stesso tempo vi ponete come punto di riferimento Mascia per un territorio molto ampio sì abbastanza ampio ecco sì come diceva lei perché si parla di Fano si parla di Pesaro della vallata del Metauro perché arrivate fino a Fossombrone a proposito di impianti come ve la cavate Giustiniano? abbiamo siamo a Fossombrone abbiamo una sala molto grande che ci ha fornita il parroco e a Fano abbiamo la palestra della scuola Nuti e a Pesaro abbiamo la palestra Big Gym quindi come spazi ci siamo sono tutti e tre spazi buoni che ci saranno giusti per le nostre attività sì ci proponiamo di lavorare un po' su tutta la vallata del Metauro e la costa fino a Pesaro poi raduniamo anche persone non solo di Fano Pesaro e Fossombrone ad esempio da Fossombrone vengono anche da Urbino ma arriva qualcuno quindi non essendoci altre palestre in loco attiriamo anche queste persone facendo molta attività di base ai risultati si fa naturalmente riferimento ma fino ad un certo punto e comunque qualche bel risultato l'avete ottenuto in questi anni Mascia sì diciamo che negli interregionali che abbiamo partecipato metà dei nostri atleti hanno preso l'oro e gli altri nella zona medaglia l'ultimo ecco risultato un po' più prestigioso è un bronzo ai campionati italiani dei cadetti e quello è stato ecco un buon un buon risultato sport che è incluso da tempo nel programma olimpico tra l'altro l'Italia ha anche centrato qualche risultato davvero molto prestigioso ora non vi dico se c'è qualche vostro allievo o qualche vostra allieva che possa ambire a tanto ti chiedo se magari c'è qualche prospetto che lavorando sodo potrebbe avere delle possibilità Mascia sì io vedo in futuro dei talenti che diciamo che abbiamo individuato però è il tempo dopo che ci dà ci dà ragione di questo ecco comunque abbiamo dei buoni elementi anche e soprattutto nella fascia dei bambini dai 9 anni ai 15 anni ecco e sono quelli che abbiamo ottenuto delle medaglie ecco Giustiniani ha rivendicato con orgoglio alla fine all'inizio di questa chiacchierata di non essere sport di nicchia e accettiamo volentieri questa precisazione però chiaramente si parla di uno sport non dai grandi numeri che non attira a proposito di sponsor grandi finanziatori e allora la base credo che ci sia come per sport di questo livello una grandissima passione per lo sport in generale e per questa disciplina in particolare del motore di tutto sicuramente se non ci fosse la passione non si potrebbe andare avanti perché questo lavoro che non è un lavoro è un piacere non lo facciamo come primo lavoro abbiamo tutti un primo lavoro e questo lo facciamo per passione non ci consentirebbe di vivere però sì tanta passione che riusciamo anche in alcuni casi a trasmettere ai nostri ragazzi abbiamo anche un ottimo elemento che qualche anno fa è stato selezionato chiamato dalla Federazione Nazionale per andare a collenarsi con le riserve della Nazionale che adesso è cresciuto anche lui sta prendendo il brevetto da istruttore e sta crescendo la passione continua e speriamo che venga su anche con le nuove leve quello che colpisce in generale delle discipline orientali nella loro diversa articolazione è anche un grande rigore verso il comportamento da tenere sul tappeto di gara ma anche fuori e così anche per il taekwondo Maschen sì negli incontri ci si saluta gli atleti prima dell'incontro ci saluto poi finito l'incontro l'atleta va a salutare il coach dell'avversario e ecco negli incontri non c'è vedo non c'è animosità no c'è molto rispetto diciamo nell'ambiente c'è molto rispetto sia per l'atleta e per il coach ecco quando appunto si promuovono valori di questo tipo si svolge anche un'azione educativa per chi avete a che fare comunque con bambini e bambini e quindi è importante far passare il messaggio giusto Giustiniano sicuramente la disciplina conta moltissimo non solo come dice Antonio nel combattimento ma anche quando si arriva in palestra i ragazzi prima di entrare nel tappeto fanno il saluto come rispetto per il luogo in cui si allenano e per il maestro che li allena e quando escono fanno la stessa cosa quindi è una cosa fondamentale poi nel combattimento ci sono tante regole e quindi bisogna rispettarle non è uno sport violento diciamo non è uno sport ci sono alcuni genitori che non conoscendo le arti marziali pensano che diffidano si diffidano ah si fa il combattimento si fanno male sono cattivi diventano violenti da grandi ma assolutamente è il contrario perché la disciplina nelle arti marziali è una cosa fondamentale spesso chiamiamo i nostri ospiti a svelare quello che può essere un loro sogno nel cassetto per il futuro e in questo caso rivolgiamo la domanda anche a voi qual è l'aspirazione che in qualche modo coltivate che vorreste realizzare nei prossimi anni Masci è diciamo proprio quello il massimo sogno che una strategia vada alle olimpiadi ecco che è il massimo diciamo per ogni sport ecco è un sogno che Giustiniani condivide o vuole un po' più bassi chiaramente noi ormai abbiamo la nostra età non abbiamo più velleità diciamo però ecco la cosa che ci spinge è avere veramente abbiamo degli ottimi elementi in questo momento che devono crescere ancora e magari ecco ci farebbe veramente tanto piacere se uno di questi ottimi elementi arrivasse a avere un posizionamento a livello della nostra federazione alto come le selezioni per entrare nella squadra nazionale grazie Giulio Giustiniani allenatore della MT Condofano Fossombrone Pesaro grazie anche ad Antonio Masci anche lui allenatore del club come sempre grazie anche a tutti voi per averci seguito vi aspettiamo la settimana prossima grazie a tutti Grazie a tutti.